Il Comune di Pordenone ha attivato nuovi servizi di consultazione all'interno del proprio sito web. La prima novità riguarda la sezione dedicata al piano regolatore generale, che è stata rinnovata e arricchita. Vengono messi a disposizione nuovi servizi cartografici per la consultazione di dati a carattere urbanistico, tra cui indagine geologica, vincoli ambientali, varianti adottate e piani attuativi comunali. È stata attivata inoltre una sezione del sito dedicata al progetto Facciate del Corso, un'iniziativa avviata nel 1991 con l'obiettivo di promuovere il restauro delle facciate degli edifici di pregio del Centro Storico di Pordenone. Vi si può consultare la storia del progetto, tuttora attivo, e la descrizione delle procedure per accedere ai contributi previsti dalla collaborazione con la Fondazione Crup. Sono inoltre disponibili gli esiti degli interventi effettuati. Ogni facciata recuperata viene presentata sinteticamente e corredata di documentazione fotografica. Il sindaco di Pordenone è Claudio Pedrotti. Noi come Pordenone il nostro sito lo curiamo da tanto tempo. Abbiamo dato un impulso nell'ultimo periodo, proprio perché siamo convinti che questa è una strada che ci aiuta a essere più vicini a tutti, ma soprattutto anche a ricevere poi le informazioni dalle persone che vorranno usare quelle del Comune. È un punto importante perché la qualità di un sito si basa di fatto sulla capacità di interagire con le persone che questo sito lo utilizzano. Ci teniamo tantissimo. Grazie a tutti.